Il Lechese Ezio Colombo, classe 1935, 79 anni tra pochi giorni, si sta preparando anche quest'anno alla Resegappa, la grande corsa in montagna che dal lungo lago di Lecco porta la vetta del Resegone e ridiscende in città. È la quinta edizione ed Ezio Colombo sarà presente per la quinta volta in quanto ha già partecipato alle quattro edizioni precedenti. La prima domanda è qual è il segreto per essere ancora così in forma da andare di corsa sul Resegone e di tornare poi all'ecocentro a 79 anni di età? Qual è il segreto? Il segreto sono tanti, prima di tutto l'alimentazione, secondariamente bisogna sempre tenersi allenato perché l'allenamento è importante e poi sapere prendere la corsa bene, non partire forti e dopo Mari arrivi a un certo punto che non ce la fai più, ecco, è lì tutto, sono pochi segreti, un po' di sacrificio. Ecco, in questi giorni siamo già in pieno periodo di allenamento e che vuol dire ogni giorno fare qualche camminata, fare qualche lunga corsa? Sì, certamente, anche se non corri, però Mari uscire, non so, 5-6 ore e fare una camminata, andare al Resegone camminando, andare sulle nostre montagne in grignetta, però bisogna fare tanto movimento e allora con più ore stai fuori, con meglio, anche se non corri, però è sufficiente per resistere alla gara perché è molto dura. Nelle quattro edizioni precedenti qual è stato il tempo migliore realizzato da Ezio Colombo? Ho fatto 4,28, 4,32, 4,30, l'anno scorso 4,45, comunque siamo lì, non è importante arrivare a quello. Qual è il momento più duro della corsa, il pendio più ripido quando si sale e poi anche quando si scende perché bisogna mantenere l'equilibrio anche su ripidi sentieri e su ripidi mulattieri? Il pezzettino, diciamo, scendendo e dopo Erna perché c'è un pezzettino molto ripido e poi anche scivoloso, bisogna stare attenti perché le gambe non sono più, bisogna stare attenti, ecco, di non scivolare e farsi male. L'importante è quello, portare a termine la gara è la cosa più bella che c'è in questa manifestazione. Quando è iniziata la carriera podistica di Ezio Colombo che ricordo ha partecipato alle maratone un po' di tutto il mondo, dall'America all'Asia alla Russia, quando è iniziato? In anni giovanili? Proprio, nel 72 ho cominciato a fare la tartavale Lecco e poi ho fatto una centina di maratone più le 100 chilometri, le monze resegone, ne ho fatte tante, ecco, veramente, sono contento perché mi sono portato a termine le camminate, è una soddisfazione personale. Ecco, a proposito della Monza-Resegone, la corsa della Notte di San Giovanni parte da Monza e termina al rifugio degli apilisti monzesi su Resegone, si corre in tre, in un terzetto, insomma, è una corsa anche questa molto dura perché dopo il tratto di pianura Brianzola nella parte finale c'è l'impennata nella Val d'Erve per salire a Resegone. Che ricordi ci sono di questa? Ricordi, ne ho fatti sei di fila che ho già 70 anni, fino a 76 anni, ne ho fatti sei, dopo la settima ho dovuto fermarmi perché il nostro amico non andava più perché devi correre, non più di 5-6 metri di distanza uno all'altro, però c'è chi va in salita, chi va in pianura, è una corsa molto difficilissima da fare, comunque io sono contento, alla settima si è ritirato il mio amico, basta, adesso non mi sacrifico più a fare, però è una soddisfazione. E invece sarai presente nei primi giorni di giugno alle Resegappa? Speriamo di portarla a termine ancora, anche quest'anno. Il grande favorito è ancora Golinelli che continua a vincere, ultimamente ha vinto anche il Cornizzolo, no? Sì, ha vinto il Cornizzolo, ha vinto in Erna, è bravo, è bravissimo, è un fenomeno, è forte, sa scegliere anche le corse, sa correre, io penso che è uno che corre quando è il momento giusto, ecco, non tutti i giorni magari, però è bravo, ecco, complimenti a quella persona lì, ok? Bene, complimenti anche a Ezio Colombo che ha quasi 80 anni, si prepara ancora a correre fino alla vetta del Resegappa. Va bene, grazie, sono contento.